Buon pomeriggio a tutti e coloro che volanno seguire questa diretta streaming che faremo sulla nostra social tv crpiemonte.tv per seguire in diretta i risultati elettorali delle elezioni regionali 2014. Da qui alle 24 per circa 10 ore vi forniremo man mano che usciranno dal Ministero dell'Interno i dati delle elezioni. Infatti da pochi minuti si sono aperti le urne nei 4832 seggi distribuiti negli oltre 1200 comuni piemontesi dove ieri circa 2 milioni di cittadini si sono recati a votare sulla scheda verde per il nuovo Presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale che per la prima volta nella decima legislatura sarà composto da 50 consiglieri e non più da 60 consiglieri. Cosa hanno trovato i piemontesi sulla scheda verde? Hanno trovato a sfidarsi 134 liste suddivise in 8 province di cui facevano parte 651 candidati. 651 candidati alla carica di consigliere e 6 candidati alla carica di Presidente. Nell'attesa di avere i dati elettorali che arrivano online con una certa tempestività e frequenza vi faremo sentire interviste, pareri, giudizi da parte di esperti giuridici amministrativi, da parte di docenti universitari, di esponenti del mondo dell'informazione, della comunicazione, della società civile, del mondo economico che ci faranno conoscere quali sono le attese e le aspettative che la comunità piemontese nutre nei confronti della Regione Piemonte e di chi la dovrà governare nel prossimo quinquennio.